È la festa di un gruppo di persone, di cittadini, dall'amministrazione all'associazione On The Move, a tutti coloro che hanno contribuito fin dalla nascita all'idea di poter recuperare e restituire alla città la fortezza. In arrivo 1.650.000 euro per la fortezza del Giri Falco a Cortona. Il progetto di recupero della fortezza ha infatti ottenuto un importante finanziamento dal programma Bellezza Italia, promosso dal governo nel 2016. Questo sicuramente è il finanziamento più importante, è il finanziamento del progetto completo della fortezza. Ed è importante perché ovviamente è il recupero completo di tutta la fortezza, ma soprattutto perché da questo recupero parte poi un lavoro di progetti innovativi che riguardano la comunicazione, che riguardano nuovi mezzi di comunicazione come appunto la fotografia, le immagini e così via sulla fortezza. Per cui è importante il recupero ma è importante quello che verrà fatto dopo. I lavori renderanno così la fortezza del Giri Falco accessibile e utilizzabile per 365 giorni all'anno. L'intervento riguarderà il corpo centrale che verrà reso più accessibile, verrà poi ristaurato negli interni e negli esterni ed infine verranno sostituiti gli infissi e realizzati nuovi impianti termici ed igienici. Per continuare il percorso di miglioramento del parco archeologico ma anche del nostro museo, ampliamento del museo, quindi veramente un'attenzione importante e a tutto toro sui nostri beni culturali.